Il vice sindaco di Acquedolci, Salvatore Oriti, chiama a raccolta sindaci, deputati regionali e nazionali per trovare soluzioni e risorse, sia per la prosecuzione del punto nascita, sia per risolvere le altre criticità dell'ospedale di Sant'Agata Militello. Oriti ha salutato positivamente l'intervento del direttore generale Paolo Lapaglia e auspica che il problema venga risolto a stretto giro. Per Oriti la questione più che economica è essenzialmente politica. Da quando siamo stati a Roma dalla Lorenzinne col senatore Mancuso in cui era chiara la criticità del punto nascita, va dato atto che il manager sia adoperato e sia adoperato non come di norma i precedenti manager facevano che rassicuravano a parole e poi il giorno dopo avevamo la smentita. Ci ha fatto vedere degli atti che sono documentabili e che ha invitato l'amministrazione comunale che ne facesse la richiesta a rilascio atti di averli, ma la puntualità con le scadenze che hanno caratterizzato l'impegno di questo manager, io ritengo che passano ora questo tipo di impegno alla politica, a cominciare dall'amministrazione comunale alla deputazione regionale e anche tutta la deputazione pure nazionale perché questo lembo di territorio che ricordiamo tutti è gravato da riconoscimento di essere maglia nera di tutti i territori siciliani, ma noi guardiamo il nostro e cioè quell'area interna che è sinonimo di area di forti criticità, spopolamento e il rischio di desertificazione non solo quella culturale, ambientale, ma anche quella dei valori delle persone che vivono e vogliono investire in questo territorio e vogliono produrre le risorse migliori proprio per la crescita di questo territorio. La fase successiva sicuramente è da breve, dovrà vedere in un unico obiettivo quello che le forze sane si impegnano ad avere riconoscimento da parte della Regione sia delle somme che servono con quel punto di impegno che il manager ha posto, cioè che bisogna fare i conti con la massa finanziaria e non c'è massa finanziaria che tenga rispetto al diritto alla salute che questo territorio pretende. Grazie.